Allora ricominciamo, ripartiamo da qui, da Bra, da CIS, con questa puntata molto particolare di Play, molto diversa insomma dalle puntate tipiche, vi racconto in genere le notizie in senso stretto, stiamo sull'attualità, non che questi temi non siano di attualità, ma insomma non vi raccontiamo le prime pagine a quest'oggi, però ho comunque trovato per dare il via a questa mia diretta un ospite che ho già avuto proprio in trasmissione, perché come vi diciamo i temi che possono partire a cominciare dal formaggio sono tantissimi, allora sono davvero contento questa volta di persone di avere qui di fianco a me il professore dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Michele Antonio Fino, bentornato. Grazie a te dell'invito e grazie dell'ospitalità. Allora sì, ho detto poco in realtà, lavori per l'università, ma sei anche divulgatore, ti si può trovare ad esempio sui social con nome Ermezio, ti impegni molto nel cercare di fare chiarezza sul cibo, sul racconto del cibo in senso ampio, chiaramente non soltanto il formaggio. E ti ho voluto invitare, intanto appunto per avere l'opportunità anche di vederci di persona una volta, ma anche perché secondo me con te possiamo ragionare di un tema un po' complicato, perché chiaramente solo food in generale, poi anche questa manifestazione CISA hanno al centro il tema della valorizzazione del territorio, di far emergere da un punto di vista agricolo, di produzione di cibo gastronomico, ma anche sociale, insomma di territorio culturale, far emergere le eccellenze. Tu che ti occupi invece molto spesso, soprattutto quando scopri qualche notizia particolarmente irritante, quasi di una sorta di estremizzazione insomma al nazionalismo del cibo, il difendere il cibo, ecco, dov'è il confine? Come si trova il confine fra queste due cose? Chiaramente non sono la stessa cosa, ma ci può essere un'area grigia un po' complicata. Ci può essere un'area di confine senza dubbio, però è abbastanza facile in realtà discriminare tra una promozione della qualità e la promozione invece nazionalistica di un prodotto. Quando il prodotto è realmente legato a un territorio, nel caso del formaggio, questo dipende da che cosa mangiano gli animali, che siano bovini o vini o caprini, dipende se mangiano i foraggi di quel territorio dove sono allevati, oppure se sono allevati con nutrizione che viene prodotta completamente altrove. Ecco che lì vediamo chiaramente che cos'è una produzione legata ad un territorio, quindi ne esprime il carattere e in questa virtù può anche pretendere di essere riconosciuta e quella produzione che invece è fatta lì, ma potrebbe essere fatta a 200 km di distanza, esattamente uguale. In questo secondo caso chi la promuove sta promuovendo un modello di tipo nazionalistico, dicendo vabbè è fatto in Italia, però i bovini sono di una razza che in Italia non abbiamo mai allevato e gli animali mangiano una frazione alimentare al 100% che viene dalla zona diversa da quella dove sono allevati, ecco allora chiaramente che cosa c'è al di là di questo italiano? C'è poco. Se invece abbiamo una produzione d'alpeggio, magari di un alpeggio del Piemonte, dove le vacche per quattro mesi d'estate mangiano esclusivamente i foraggi di un'alta valle piemontese, laddove vanno a convertire dei vegetali in latte che diversamente noi non potremmo utilizzare perché quei vegetali noi come umani non siamo in grado di digerirli, ecco che automaticamente abbiamo un legame col territorio forte, abbiamo una grande qualità e abbiamo un prodotto alimentare che è assolutamente unico e dunque apparentemente può sembrare che sia difficile, ma in realtà se si guarda con un minimo di attenzione non è così difficile separare il nazionalismo dall'onesta promozione della qualità agroalimentare. E chiaramente alla base di tutto questo ci va una buona conoscenza, anche solo una volontà ecco di conoscere questi temi e visto che appunto tu sei anche un po' qui a rappresentare l'università di Pollenzo, mi fai pensare che molto spesso quando si parla di altra disinformazione, penso al clima, penso al covid eccetera eccetera, il messaggio che viene lanciato sempre è ascoltiamo chi se ne occupa scientificamente, sentiamo chi ricerca, ascoltiamo chi dice chi se ne occupa. Nell'ambito del cibo questo elemento è un po' carente, per fortuna c'è l'università Pollenzo, però è qualcosa di quasi più unico che raro? Sì, questa che tocchi è una questione cruciale, rispetto ad alcuni ambiti non del tutto, per carità, perché anche rispetto al clima se uno vuole trova testate giornalistiche, sedicenti esperti che gli dicono la verità che vuole sentire, però diciamo che la maggior parte di chi se ne occupa, la maggior parte degli esperti, costituisce un consenso piuttosto robusto invece rispetto alla qualità alimentare c'è una minore attenzione media la ragione di questo è semplicemente il fatto che per lunghissimo tempo noi abbiamo pensato che tutto sommato era poi solo roba da mangiare ci siamo arrivati con una certa calma, per non dire un certo ritardo, al fatto che quello che mangiamo diventa parte di noi costituisce innanzitutto la nostra identità culturale e poi anche la nostra identità fisica quindi è assolutamente molto importante che scegliamo consapevolmente che cosa mangiare per scoprire tra l'altro che spesso con le scelte che facciamo per mangiare stiamo influenzando direttamente anche grandi questioni climatiche se decidiamo di mangiare dei prodotti che devono viaggiare per molte migliaia di chilometri perché l'avocado nel nostro toast non deve mancare o perché a Natale vogliamo stupire gli ospiti con le fragole nel risotto evidentemente diciamo che mettiamo in secondo piano le questioni climatiche connesse al trasporto di questi beni se invece ci poniamo in un'ottica più stagionale, locale evidentemente abbiamo un'attenzione rispetto all'impatto che è diversa non necessariamente risolutiva, però diversa e a mano a mano che le nostre consapevolezze, le nostre conoscenze vanno migliorando anche il nostro scegliere, le nostre opzioni quotidiane per l'alimentazione potranno sempre di più incidere sul nostro indice di sostenibilità Sì, è chiaro che è molto difficile mettere da un lato i cibi cattivi per il clima dall'altro i cibi buoni per il clima più che difficile, forse impossibile perché dipende da dove vivi, da quanto ne mangi e anche da cosa intendi, il consumo di acqua oppure la CO2 non sempre vanno esattamente di pari passo da qui appunto una conoscenza forse un po' maggiore ma forse prima ancora della conoscenza ritorno al punto di partenza anche il porsi il problema forse già quella, non dico che sia metà strada ma quasi metà strada magari no, però sicuramente è il passo senza il quale non si fa niente cioè gente che non si fa il problema prima di scegliere purtroppo è ineducabile perché a prescindere qualunque cosa tu possa spiegare loro tanto non influirà sulle loro scelte andranno solo dietro al gusto oppure alla moda del momento sì, quello che hai detto è molto rilevante pensiamo semplicemente all'alpeggio l'alpeggio va a sfruttare delle erbe a quote oltre i 2000 metri dove coltivabile non c'è praticamente nulla perché la stagione è troppo breve e nemmeno l'orto si riesce a fare efficacemente un po' di patate al più quindi in quelle condizioni quell'erba diventa qualcosa che per noi è nutriente qualche volta è estremamente buono oltre che nutriente anche quindi gustativamente soddisfacente attraverso la mediazione di un animale la vacca, l'ovino, la capra ora, tutte le questioni morali rispetto al rapporto tra l'uomo e gli animali devono misurarsi con questo perché la nutrizione che volontariamente fa a meno del rapporto con gli animali le scelte vegetariane ma soprattutto le scelte vegane negano un ruolo nella nutrizione umana al rapporto con l'animale questo in termini puramente nutrizionali è assolutamente corretto ma in termini gustativi e culturali è assolutamente una rottura rispetto alla nostra storia noi siamo quello che siamo oggi perché da 12.000 anni viviamo una simbiosi con degli animali che prima ci hanno aiutati per il lavoro, per il latte e per la carne poi per il lavoro abbiamo creato delle macchine e sono rimasti per il latte e per la carne oggi possiamo farne a meno anche per queste ultime due cose ma in determinati areali, in determinate condizioni senza il rapporto con l'animale noi non siamo nelle condizioni di trarre nutrimento della natura questo è un problema etico e percettivo particolarmente interessante in questi tempi e anche questo di difficile risoluzione completa chiaramente poi c'è la moralità individuale e qua se vogliamo tocchiamo anche un altro punto cioè che forse consideriamo questi cibi chiamiamoli alternativi anche se poi se andiamo a cercare molti di questi sono mangiati da quando esiste l'uomo sulla terra ma insomma queste alternative che vengono poste ai prodotti animali le affidiamo automaticamente a qualche grande azienda cioè il piccolo produttore fa la carne e il formaggio la grande azienda fa le alternative anche questa è una distinzione per nulla ovvia non è fatto detto che debba essere così dal punto di vista produttivo hai assolutamente ragione chi oggi produce l'hamburger vegano sono pochissime aziende, meno di 10 aziende in Europa che sono grandissime aziende con finanziamenti importantissimi che hanno sviluppato linee produttive in grado di mettere a frutto una tecnologia sofisticatissima certamente molto più sofisticata e demanding in termini di risorse rispetto a un allevatore che ha i suoi capi bradi nell'Alta Valle Po, nell'Alta Valle Pellici all'altra parte il primo non ha bisogno della sofferenza di nessun essere vivente e senziente il secondo sì, allora il tema etico si misura con questa scelta tra le due opzioni e io credo che una scelta che sia ragionata non può non riconoscere che ci siano ragioni per entrambe le condizioni produttive e quindi che non ci siano i buoni e i cattivi io penso che il nostro sistema alimentare debba gradualmente andare a ridurre drasticamente se non eliminare l'apporto che deriva dalla vita di animali senzienti ma al tempo stesso che questo debba avvenire senza la maledizione di chi oggi si trova a essere l'erede di una tradizione produttiva o di chi per questioni educative e tradizionali si trova a essere un consumatore onnivoro oggi perché credo che nella maledizione non ci sia nulla di educativo che si spinga alla contrapposizione e che si vada tutto sommato a spingere le persone nemmeno a scegliere per il meglio ma a scegliere magari di esagerare nelle fonti alimentari e animali per una questione di difesa della propria identità il che è esattamente il contrario di quello che vogliamo tutti esatto, andiamo quasi sul filosofico ma l'imporre sempre due scelte come le uniche possibili due estremi senza nulla nel mezzo è un attimo qualcosa che ci può sfuggire di mano voglio toccare anche con te un altro punto perché sfogliando il programma della manifestazione di quest'anno qui a CIS diversi punti sono legati insomma ci sono appuntamenti legati al ripopolare la montagna al proteggere la natura eccetera eccetera però si parla anche di innovazione anche escludendo tutto quello di cui abbiamo parlato fino ad adesso cioè restando assolutamente nella produzione casearia come la conosciamo ma nuove tecniche, nuovi modi di creare il formaggio nuovi tipi di formaggio magari anche e però spesso quando si parla di cibo se uno aggiunge la parola innovazione sembra che si faccia un passo indietro invece bisogna sempre parlare di autenticità, di genuità trovare delle radici anche qui sembra sempre di mettersi un po' la zappa sui piedi da soli hai abbastanza ragione devo dire anzi hai molto ragione purtroppo noi siamo sospesi tra due poli estremi da un lato l'innovazione che ci piace perché quando assaggiamo da un produttore ospite qui a CIS magari proveniente dalla Siria o proveniente dalla Polonia qualcosa che ci piace diciamo perché non proviamo a farlo anche noi questa cosa qui cioè è una tentazione innata nell'allevatore, nel produttore e anche nel consumatore che vorrebbe provare qualcosa di diverso dopodiché polo esattamente opposto per vendere un prodotto non c'è niente che funzioni meglio del marketing, della tradizionalità ah questa cosa si è sempre fatta così da mille anni è così garantisce da matti perché? perché noi siamo sospesi tra la curiosità e la neofobia la curiosità colpisce quasi tutti ma è decrescente con l'età cioè a un certo punto verso i 15-20 anni abbiamo il top dell'interesse al nuovo quindi della neofilia e poi andiamo a calare drasticamente quando abbiamo una certa età magari verso la pensione la neofobia domina esattamente come quando abbiamo 5-6 anni ai bambini se dai qualcosa che non hanno mai assaggiato U, diffidenza massima è un meccanismo istintivo di difesa i nostri antenati si sono salvati perché non hanno assaggiato quella bacca e qualcuno c'era già morto generazioni prima invece quando parliamo di tradizione ecco che la tradizione sembra andare esattamente in quella linea lì guarda questa cosa si è sempre fatta l'abbiamo sempre mangiata fa bene di sicuro non c'è nessun problema tuttavia la tensione tra questi due estremi quindi neofilia e neofobia è il driver del cambiamento e dell'innovazione ora io sfido Chiuga e i tuoi ascoltatori a dirmi che 10 anni fa sapeva cosa fosse il kefir oggi il kefir lo trovi in tutti i banchi frego mio padre a 83 anni non ha mai mangiato uno yogurt perché fino a quando aveva 50 anni di yogurt nel negozio di paese dove abitiamo non c'è mai stata nemmeno un vasetto quindi lui l'esperienza dello yogurt prima di entrare nella sua maturità non l'aveva mai fatta ora questa è esattamente l'innovazione che giorno per giorno ci possiamo consentire se siamo in grado di capire fin dove arriva la nostra neofobia ecco che magari ci apriamo a delle novità anche maggiori ci diamo qualche possibilità in più e poi viva Dio siamo in un paese libero ognuno mangia quello che gli pare ma infatti alla fine questo dovrebbe anche può essere sottofondo se volete fare questo esperimento a casa provate a chiedere a seconda delle vostre età ai genitori o nonni se si ricordano quando hanno scoperto la pizza che noi la diamo come cibo ovvio la conosci da quando sei nato e invece a un certo punto è arrivata qui al nord la pizza e prima praticamente assolutamente sì allora per chiudere voglio ancora un attimo ragionare su questo su questo tema che mi hai detto forse in realtà non è tanto una domanda ma mi hai riportato a un pezzo di opinione purtroppo non mi ricordo chi l'aveva scritto ma al mattino leggo tutte le un po' di prime pagine di giornali e c'era un articolo su una legge sull'hamburger vegetale in Francia e c'era un pezzo di opinione un po' critico e nel sottotitolo c'era una frase un po' a defetto chiaramente poi la questione va complicata però diceva negare l'innovazione cioè impedire l'innovazione e corrisponde a negare la tradizione ovviamente sono termini un po' forti ma il significato quello che voleva dire è che la tradizione la nostra tradizione è il frutto dell'innovazione precedente allora mangiare una forma cilindrica piuttosto bassa di carne macinata cotta alla braccia dentro due fette di pane in Italia non è tradizione sicuramente prima del novecento e anche in Francia immagino esatto i nostri vecchi la chiamavano svizzera in America la chiamavano hamburger perché veniva dalla Germania secondo loro dalla tradizione dei tedeschi e non è incomprensibile Hamburgo è nel estremo nord della Germania sul mare del nord è una città della lega ansiatica e sta ai confini dello Schleswig-Holstein che è quello che dà il nome Holstein alle frisone le vacche da latte le vacche da latte sono vacche assolutamente non adatte alla carne se uno vede una frisona si rende conto che quando viene macellata a fine vita una vacca frisona si capisce perché è una vacca da latte ha dato tutto nel latte c'è pochissima carne attaccata a quelle ossa per di più è dura perché ce n'è pochissima e quindi non c'è grasso è una carne molto difficile da mangiare come fai a trasformarla in qualcosa di mangiabile come hanno fatto Abra 150 anni fa la trasformi in un macinato Abra la metti in una salsiccia e ad Hamburgo la metti a pezzettini dentro a delle bistecche ricostruite e poi le cuoci alla griglia perché già tagliata a pezzettini diventa masticabile altrimenti se ti fai una bistecca di quella bestia lì non riuscirai mai a masticarla quella cosa arriva probabilmente in Stati Uniti d'America grazie agli immigrati tedeschi che sono arrivati in America 30 anni prima degli italiani ma non erano meno abbondanti degli italiani sono stati veramente il grande popolo immigrato in America e sono quelli che Artusi ricorda come quelli capaci a cucinare la carne Artusi dice la carne noi dobbiamo imparare a farla dagli inglesi e dai tedeschi cosa che oggi ci fa saltare sulla sedia ora quel prodotto lì quando è arrivato in Italia inizio del novecento era un'innovazione 100% oggi se ci sono tante località dove mangiare la carne macinata in quel modo è più o meno tradizionale se non consideriamo l'hamburger qualcosa di alieno rispetto alla nostra cultura beh c'è una parte che dobbiamo a quel tipo di innovazione che è arrivata ad un certo punto tutta la tradizione non è nient'altro che una successione di innovazioni che abbiamo testato e abbiamo trovato che ok non ci dispiaceva ce ne sono sicuramente di innumerevoli che abbiamo testato e abbiamo detto non fa per noi però l'hamburger è una di quelle che invece ha funzionato la pizza al nord nel nord del paese è una di quelle che ha funzionato la pasta è l'innovazione che ha purtroppo cacciato la polenta da molte nostre tavole purtroppo nel senso nostalgico del termine dal punto di vista nutrizionale due cereali amidi insomma non c'è tutta questa differenza quando si dice io non voglio più innovare stai dicendo che non vuoi più creare tradizione quindi l'articolista che citavi ha ragione stai dicendo che la tradizione ti va bene fino a quel punto lì poi basta ma in quel momento lì diventi museo quando diventi museo sei morto culturalmente sei da guardare leccando un gelato da parte di chi frequenta le sale di quel museo e non sei più niente di interessante a lungo andare per cui quell'articolo era molto giusto perfetto un po' quell'illusione che abbiamo a prescindere dal tema anche del cibo di essere arrivati cioè che c'è il passato e poi ci siamo noi che siamo il risultato di tutto questo è il mito di tutte le generazioni perché essere l'epifenomeno della storia è il mito di tutte le generazioni peccato che sia farlocco completamente chiaro chiaro senti per chiudere ti faccio una domanda un po' tra bocchetto nel senso che non te l'ho preannunciata ma immaginiamo un mondo distopico in cui siamo di fronte ad un futuro dove non c'è più assolutamente formaggio da nessuna parte ti dicono ne puoi scegliere un pezzetto di uno quello che vuoi ma sarà l'ultimo che mangi hai in mente quale potrebbe essere sì assolutamente allora io sono di una famiglia Margara quindi a casa mia abbiamo allevato bovini e fatto transumanza fino alla fine degli anni 80 bovini di razza piemontese mio nonno andava nella valle delle meraviglie quindi nella valle della Roia sopratende Casterino ma gli ultimi transumanze li abbiamo fatte in valle Varaita a Becetto e il formaggio per me identitario è il Nustral nella versione Marset il Marset è un nostrale affinato fino al momento in cui comincia la proteolisi cioè al centro la forma comincia a collassare e c'è una formazione di gusto piccante perché al salato e al grasso originario del nostrale che è un formaggio a doppio impasto quindi è un formaggio a pasta semidura che è adatto a un invecchiamento fino a 12 mesi quando si supera quel tempo lì cominciano dei fenomeni per cui le proteine collassano si libera il liquido all'interno delle celle e si forma un gusto piccante particolarmente esaltato che è perfetto con tanti piatti della cucina piemontese ma anche da solo ed è per quello che mi riguarda il gusto della tradizione che fa parte della mia identità chiaro chiaro non credo di averlo mai mangiato quindi me lo vado me lo vado a cercare grazie mille davvero Michele Antonio Fino ripeto lo potete trovare come Ermezio su Instagram potete se lo cercate su Google esce fuori l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo perché ci insegna chiaramente e quindi grazie mille davvero alla prossima grazie a te grazie ai tuoi ascoltatori un po' di musica e poi torniamo tra poco grazie a te